Maratona all'Aquila per l'aggiornamento del DEFR, il documento economico finanziario regionale, il testo che annualmente programma gli obiettivi di finanza pubblica. Nei prossimi giorni le audizioni delle associazioni e si riuniranno le varie commissioni regionali. La nota di aggiornamento dovrebbe essere approvata entro il 23 dicembre, visto anche che dal 24 al 7 di gennaio saranno sospese tutte le attività consigliari. Ieri la conferenza dei capigruppo integrata e la discussione tra maggioranza e opposizione si è subito accesa. Nel documento non c'è nulla, incalza il centro-sinistra. Dall'economia e le infrastrutture fino alla sanità e alle risorse del Recovery Fund non c'è traccia di una visione regionale, ha dichiarato il capogruppo in regione del PD Silvio Paolucci. A parte le risorse del masterplan e le risorse della precedente programmazione europea, questa maggioranza sceglie di non decidere alcunché. Noi riteniamo che sia molto grave il fatto che non vi sia una sola priorità iscritta in questo documento economico e finanziario. Non c'è visione dunque, non c'è la volontà di scrivere una pagina nuova per la nostra regione. Puntuale come il Natale arriva lo spiegone del centro-sinistra, rispondono l'assessore al bilancio Guido Liris e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. I due ricordano che il DEFRE è stato approvato il 30 giugno, per la prima volta nella storia in anticipo rispetto alle scadenze previste per legge. Oltre alle 287 pagine del documento, sottolinea il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, c'è un integrativo di 100 pagine prodotto a novembre a seguito della pandemia e dei provvedimenti regionali, nazionali ed europei, con le variazioni di bilancio e correttivi della programmazione 2021-2027, nonché quella straordinaria con il Recovery Fund. Forse le opposizioni, conclude Febbo, non hanno letto tutto. E la polemica riguarda anche la presunta coesione della maggioranza, poiché qualche giorno fa Forza Italia aveva abbandonato la commissione bilancio, lanciando lì da solo il presidente della commissione, capogruppo della Lega, Vincenzo Dincecco. Lo ripeterò all'infinito, sin albera Febbo. Non abbiamo mai abbandonato la commissione, ma abbiamo voluto sottolineare, prosegue l'ex assessore, il comportamento scorretto di qualche collega di centrosinistra che era passato alle offese personali nei confronti del sottosegretario D'Annunzis.